Addio alla principessa di Svezia Lilian, deceduta all'età di 97 anni, malata da tempo di Alzheimer. Il morbo lo aveva spinta ad annunciare tre anni fa che non sarebbe più comparsa in pubblico. Lilian muore a 15 anni di distanza dal marito, il principe Bertil, che potrà sposarla solo dopo 30 anni di convivenza a causa delle regole della monarchia.